Cominciare perché tanto registriamo, quindi dopo. Possiamo cominciare a tenere la lezione a aspetto. Perfetto, quindi dopo comunque la pubblicheremo e questo è soltanto un inizio perché come ho spiegato su Facebook abbiamo avuto questo, abbiamo ancora queste incertezze tecniche ma dopo il 7 quando rientrano i miei amici informatici non li avremo più perché avremo il loro supporto e quindi riusciremo a fornire anche qualcosa di agevole per chi ci vuole seguire, per chi vuole intervenire, per chi vuole ascoltare e dare il proprio contributo. Quindi sarà molto più facile diciamo. Io lascio a te la parola per questo inizio, poi se in futuro dovremmo ripeterlo lo faremo perfezionando magari in corso d'opera la strumentazione soprattutto, poi i contenuti verranno perché è un'oceano di contenuti relativamente all'esitato. Ti ascolto. Buonasera Luca, prima di tutto vorrei ringraziarti per questa collaborazione, per darmi la possibilità di fondare insieme questo piccolo istituto I cui studi sono dedicati all'esicasmo sia da punto di vista pratico sia da punto di vista meditativo se posso così dire E mi fa un grandissimo piacere collaborare con te anche perché ti conosco da quasi sette anni abbiamo avuto la possibilità di farne una intervista scritta molti anni fa nel 2017 che fu pubblicata su un sito ortodosso Avendo fatto quella intervista a te ho potuto approfondire e riapprofondire i valori nascosti e un po' persi da me riguardo all'ortodossia e vorrei ringraziarti anche in questa occasione Da un altro lato buonasera cari studenti, cari ascoltatori e ascoltatrici Mi fa un grandissimo piacere parlarvi questa sera e parlarvi ogni sabato sera su qualche argomento che richiede ancora molti chiarimenti Perché tenendo conto del fatto che dobbiamo parlare dell'esicasmo dobbiamo allo stesso tempo prendere in considerazione più aspetti come per esempio le radici filosofiche dell'esicasmo E perché io metto l'accento sulla filosofia? Perché a un primo lato si potrebbe dire ma quale sarebbe il legame tra filosofia e esicasmo? Non si può dedurre logicamente un legame fortissimo tra di loro Ma io direi di sì, perché? Perché prima di tutto la filosofia significa l'amore per la saggezza E come possiamo parlare di un amore per la saggezza senza prendere in considerazione l'amore per il verbo di Dio? Non mi sembrerebbe affatto logico se non facessimo in questo modo E da un altro lato io prenderei in considerazione anche un'altra realtà che specifica sia alla mistica ortodossa, all'esicasmo orientale che alla filosofia Alla filosofia così come l'è stata in occasione della sua nascita Perché filosofia contribuisce davvero alla cosiddetta riflessione sul proprio sé E se noi dobbiamo fare questo, se noi dobbiamo realizzare l'atto della contemplazione E attraverso la contemplazione, come dice Aristotele nella sua metafidica Attraverso la contemplazione si può raggiungere la vera felicità Allora abbiamo a che fare con quello che a noi ci piace dire esicasmo Ecco, abbiamo questo esicasmo interiore Certamente non tutti noi, non tutte noi siamo sacerdoti Non siamo, per esempio io non sono sacerdote, non sono neanche monaco Ma possiamo praticare un monachesimo Per quanto riguarda la nostra vita Certamente se sviluppiamo un modo di pensare e di riflettere E anche se sviluppiamo un cosiddetto sistema dei valori Valori meditativi, valori metafisici, valori metallogici E in occasione di questo corso, in occasione di ogni lezione Chieteremo d'ora in poi Io personalmente cercherò di mettere in evidenza Di sottolineare che anche se non si può parlare Di una vera logica, di una vera ragione Nel caso dell'esicasmo Questa ragione piuttosto, questa ragione esiste Ma non è la ragione nel suo senso puro della parole No, c'è una ragione che fa parte della cosiddetta realtà Che si chiama meta, meta ragione, meta logica, meta pensiero e così via Perché l'esicasmo supera la nostra condizione E quando parliamo della debolezza del corpo umano Nel senso esicasmo possiamo parlare anche di una debolezza della mente Perché la mente ci mente sempre E non si può dire che la mente ci aiuta a raggiungere la verità Come dice per esempio San Massimo il Confessore Che rappresenta il nostro istituto Perché Luca fu d'accordo con me a battezzare tra le vergolette Il nostro piccolissimo istituto in questo modo Infine ci sono molte cose da dire Io cercherò di parlare in un modo molto accurato Non troppo perché anche se mi piace parlare Dato la mia formazione professionale Voglio parlare quando devo, come devo e se si devo Perché anche a me mi piace ascoltare Io non potrei credere Io non crederei che potrei apprendere Imparare qualcosa senza ascoltare Per sapere qualcosa prima devo ascoltare E io lascio la parola a Luca E preferisco ascoltarlo con grande piacere Anche perché lui è una vera fonte di saggezza per me Ti ringrazio Tudor Innanzitutto ti ringrazio perché l'idea che tu hai avuto È stata quella appunto di creare questo percorso Tutto in italiano Quindi anche di portare persone che sono all'estero E noi di, con le nostre competenze linguistiche Di renderle fruibili agli italiani A chi parla soltanto italiano Oppure magari conosce poco queste realtà Quindi parliamo di realtà della Romania Realtà anche della Germania Perché tu parli molto bene il tedesco Persone della Grecia, del Monte Athos Possiamo riuscire ad avere contributi Di grande spessore Io quello che volevo dire a proposito dell'esicasmo È legato ad un percorso Cioè nella filosofia in realtà C'è sempre stata questa pratica Che è molto simile all'esicasmo Noi abbiamo un esempio in Italia Molto diciamo chiaro Ed è la pratica dell'estasi filosofica Scritta da Tommaso Campanella Perché Tommaso Campanella in realtà riprende E non è un caso che sia Tommaso Campanella A farlo in Calabrese Di stilo poi Dove la realtà italo-creca era fortissima In realtà bizantina addirittura È tutt'oggi testimoniata E nella pratica dell'estasi filosofica Tommaso Campanella Ripercorre e lo dice anche chiaramente Questo però sarà oggetto proprio Di una sessione specifica Perché intendo metterlo in raffronto A quanto scrive Niceforo Lesicasta Sulla custodia del cuore E della mente Che è poi proprio il fondamento Anche se in maniera estremamente sintetica Della tecnica di meditazione sitasta Però in Tommaso Campanella Viene richiamato quello che era un esercizio Che si ritrova secondo lui Già in Platone, nei neoplatonici E diciamo chi l'ha studiato Ha messo in evidenza tutta una serie di paralleli Con Porfirio, Con Plotino E praticamente Per esempio si dice che Porfirio riferisce che Plotino L'avesse raggiunto Diciamo L'estasi filosofica Quella che Tommaso Campanella Chiama l'estasi filosofica Quattro volte Mentre Porfirio una volta sola Quando scrive Della vita di Plotino Però Su questi aspetti Bisogna andare molto molto in profondità Per un motivo molto semplice Già mettendo in parallelo La concezione di Tommaso Campanella Che poi fa tutta una serie di premesse Critiche Alla Alla tradizione E diciamo Così come era stata recepita Attraverso la scolastica La tradizione aristotelica Si vede che In Tommaso Campanella La funzione del corpo È fondamentalmente una funzione Negativa Cioè nel senso Il corpo stapola L'estasi filosofica Perché E questo però lo vedremo poi bene nel dettaglio Tommaso Campanella dice di scegliere un luogo Tranquillo Un luogo dove La mente possa riposare Cioè il corpo Fondamentalmente non deve dare Alcuna forma di impedimento Quindi spiega tutta una serie di Di circostanze Per le quali La mente deve Deve poter Cioè l'anima Deve poter essere libera Da tutte le forme di impedimento Che possono Ostacolare La meditazione Anche se Poi Entrando nello specifico Su Così come viene riportato Dai neoplatonici Ci sono tantissime sfumature Per esempio Proclo Che era Già partito alla letteratura bizantina Proclo Dice che L'unione fra Il corpo e l'anima È completa Cioè È profonda Mentre Noi vediamo in altri Neoplatonici Questa unione Secondo Alcune visioni Non è completa Quindi L'anima Per quello che Nella misura in cui È unita al corpo Ne è In un certo senso Offuscata Però Rimane una parte Che è svincolata Dal corpo Ed è quella Che deve dominare E deve E deve Diciamo Poter accedere Alla meditazione Ecco Questo tipo Di antropologia È stata Messa in evidenza Da un grande teologo Del secolo scorso Morto all'inizio Del 2000 Che a lato In molti Consideravano Lo dicevano Proprio Di Viso a viso Proprio Mi dicevano Che lo consideravano Il più grande Teologo Ortodosso De Giovanni Romanidis Romanidis In un articolo Molto molto Interessante Mette in evidenza Una forma Di antropologia Come questa Con quella Dei profeti Del profetismo Israelitico E dei padri Della chiesa Cioè Dove In realtà Abbiamo Una tripartizione Quindi corpo Anima E spirito E dove Il corpo Non ha Questa funzione Di Di ostacolo Noi Sappiamo Che Palamas Nella Difesa Dei Santi Esicasti Dovrà Difendere Proprio La funzione Del corpo Dalle accuse Di Varlam Di Seminara Che considerava Appunto Il corpo Solo un ostacolo Una presenza Che rendeva La preghiera Impura Palamas Ripropone Una visione Antropologica Completamente Diversa Perché dice Il corpo Il corpo A modo suo Partecipa Alla teosis Ha un modo suo Di partecipare Alla teosis Diversa Diverso Dall'anima Ma Che non Non si escludono Quindi Anche I termini Tecnici Che vengono usati Per questo Tipo di esercizio Di Che sono poi esercizi Preliminari Cambia Anche molto Radicalmente Ad esempio Quello che In genere Viene fatto Dall'isolamento Mentre da una parte Si parla Della quiete Della mente Allontanarsi Per trovare Questa forma Di quiete In realtà Negli esicasti Nella tradizione Patristica Se pensiamo A quello che dice Marco Lasceta Dopo Un po' più Nello specifiche Cosa dice L'isolamento Ha All'inizio Una funzione Di amplificazione Cioè Di amplificazione Di che cosa Proprio Di quelle Che sono Le Le radici Delle passioni Quindi In realtà Parlano I Santi Isicasti Parlano Di una tecnica Che pure I neoplatonici Avevano individuato Perché I neoplatonici Ne individuano tre Dopo le vedremo Più nello specifico Tre 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 modi Di approcciare I I I I diamond Cioè Quello che Così come loro Intendono I demoni Che non è Come lo intendono I I padri Lo inconscio Per adesso Per adesso Provvisoriamente Oggetto Oggetto di Un'analisi Molto accurata Sui testi E anche Facendo dei Dei confronti Con la tradizione Occidentale Platonica Neoplatonica Ed anche Con le filosofie orientali Come per esempio Fece Tranquillamente Io ho avuto La fortuna Di conoscerlo La grazia Di conoscerlo Gheorghe Gelasie Che Era appunto Un esicasta E lui Faceva tutta una serie Di confronti Nelle sue opere Lui era Monaco A Frasinei Tra Le tecniche Dello yoga E quelle Dell'esicasmo Senza entrare In polemica Però Sottolineava Alcune differenze Che secondo me Sono E' importante Rilevare La funzione Diciamo Centrale La differenza Centrale Secondo me Sta nell'antropologia Spirituale E nella funzione Del corpo Perché Questa Amplificazione Delle Attraverso I pensieri Cioè Prendere Consapevolezza Di questo Inconscio Deifugo Serve E' assolutamente Fondamentale Nella fase Di purificazione Che è una fase Molto lunga In genere E dove I monaci Rischiano Tanto è vero Che Niceforo Le sicassa Dice che Questa strada Si intraprende Sotto una guida Dice Ci sono delle eccezioni E lui Anche spiega Molto sinteticamente Le tecniche Della respirazione Dell'invocazione Del nome di Gesù Legata a queste A queste Eccezioni Però Dice che L'eccezione Non fa Legge Quindi Diciamo Che Io In questo In questo Percorso Cercherò Di Di mettere In evidenza Le caratteristiche Della tradizione Esicasta Facendo dei paralleli Con la tradizione Platonica Neoplatonica Prendendo esempi Appunto Analizzerò O Nello specifico La pratica Dell'estasi Filosofica Di Tommaso Campanella Poi Metterò In parallelo Queste tecniche In Quelle che Riusciamo A Devincere In Plotino In Porfirio Sottolineando Anche Sia Le concordanze Sia Le divergenze Rispetto Appunto Alla concezione Dei Santi Esicasti Ortodossi E quindi Emergerà Naturalmente L'antropologia Di Dionigi Lerobagita E quindi Di San Massimo Il confessore Della fe San Massimo Sarà Appunto Un faro Da questo Punto di vista Per passare Attraverso San Simeone Il nuovo teologo Nicefro Lesicasta Ed arrivare Appunto All'opera Di Gregorio Palamas Sarà Un percorso Molto Lungo E Anche Perché Bisognerà Analizzare Bene I termini I testi Oltre Questo Diciamo Anche Mostrare Come Questa Questo Questo Percorso È un Percorso Di Realizzazione Spirituale Quindi Ha tutta Una serie Di tecniche Che Vanno Messe In Pratica Tecniche Che Fanno Parte Poi Naturalmente Dell'ortoprassi Cioè Partono Dalla Da Quella Che La Vita Quotidiana Di Un Cristiano Ortodosso Così come Discende Dall'applicazione Dei Canoni Fino Ad Arrivare Poi Attraverso Guide Appunto A Queste Stazioni Che Gli Esicasti Ci Descrivono E Ce Le Descrivono Nella Filogalia Diciamo Questa È Una Panoramica Generale Di Quello Che Sarà Il Contributo In Questo Percorso Sarà Molto Lungo Però Io Cerco Adesso L'ho Detto In Modo Molto Concentrato E Molto Approssimativo Perché È Impossibile Riassumerlo Però Cercherò Poi Passo Dopopasso Di Essere Molto Preciso E Molto Rigoroso In Tutte Queste In Tutti Questi Passaggi Per Evidenziare Appunto Questo Questo Questa Peculiarità E Questo Diciamo Questa Tradizione Straordinaria Che è Quella Dell'esicasmo Oltre A Questo Ovviamente Con Te Tutor Inviteremo Persone A Parlare E A Spiegarci La Loro Esperienza Nell'esicasmo E Quindi Cercando Di Con Questo Percorso Di Creare I Presupposti Delle Chiose Anche A chi Ascolta Di Comprendere Poi Dove Sarà Necessario Anche Di Tradurre In Italiano Quindi Per Per Far Capire Persone Magari Che si Esprimono Solo In Rumeno Sarebbe Veramente Giada Frasinei I Figli Spirituali Di Ghelasie O Che Ce ne Sono Anche Invitarli E Farli Parlare Perché È Un Arricchimento Veramente Straordinario E Poi Ci sono Tante Altre Figure Anche Italiane Che Possiamo Invitare E Tu Necessi Di Alcune Questo È Quello Che Farò Che Svolgerò In Questi Incontri Grazie Mille Luca Per Averci Spiegato Tutte Queste Cose Che Sono Molto Care Per Me E Prima Di Parlare Certamente In Alcuni Minuti Perché Non Voglio Diventare Noioso Per Gli Ascoltatori Ma Prima Di Parlare Del Soggetto Che Ho Proposto Per Oggi Vale A Dire Le Radici Filosofiche Dell'esicasmo Anche Io Vorrei Spiegare Evidenziare Perché Ho Scelto L'esicasmo Dato Il Fatto Che Sono Insegnante Di Filosofia Dato Il Fatto Che Dovrei Essere Piuttosto Interessato Alla Filosofia Della Mente Alla Filosofia Del Linguaggio E Ne Sono Davvero Certamente Perché Questo È Da Noi Io Sono Anche Una Piccolissima Parte Della Facoltà Di Filosofia Di Bucharest Attraverso La Mia Attività Didattica Ma Io Ho Scelto L'esicasmo Anche Perché Durante Nella Mia Vita Fino Ad Ora Ho Avuto L'opportunità Di Vivere La Straordinarietà Spirituale Se Questo Modo Di Esprimermi È Permesso Purtroppo Non ho avuto L'opportunità Di Viaggiare Sul Monte Athos E Di Scoprire Il Verro Monachesimo Così Come È Vissuto Lì Perché Monte Athos Rappresenta La Sede La Sede Principale Del Monachesimo A Livello Mondiale Ma Io Ho Potuto Conoscere Molto Bene Nella Sua Profondità L'esicasmo Qui In Romania E Anche In Altri Paesi Sia Ortodossi E Non Ortodossi Ma Soprattutto Ortodossi E Certamente Potrei Fare Riferimento Alla Grecia E Anche Alla Serbia Ma Prima Di Tutto Io Dovrei Riprendere In Considerazione Il Mio Contatto Con Il Monastero Sumbata De Sus Un Monastero Molto Famoso Noto In Romania Un Monastero Conosciuto Prima Di Tutto Grazie Al Fatto Che Un Confessore Un Molto Noto Molto Bravo Ha Vissuto Lì Si Tratta Di Padre Arsenio E Bocca Io Avevo 22 Anni E Io Vi Dico A Tutti Voi Molto Sinceramente Essendo Coinvolto Nella Realtà Filosofica Io Non Conoscevo Nulla Riguardo L'Ortodossia Rumena Non Conoscevo Nulla Riguardo Il Monachesimo Non Ero Ne Ero Ne Interessato A Sapere Una Tale Cosa Perché Io Volevo Razionalizzare Tutto E Sin dal Momento In cui Ho visto Il Visaggio Molto Fermo Del Padre Arsenio Bocca Qualcosa Qualcosa Mi Ha Spinto A Approfondire La Sua Personalità E Così Ho avuto L'occasione Di Approfondire La Sua Personalità Di Entrare Nella Realtà Nella Sua Realtà Così Come Lui L'ha Vissuta Perché Io Ho Voluto Semplicemente Capire Se la Verità Esiste Davvero E Come Posso Assumere Questa Verità E Come Posso Trasformare La Verità Come Modo Di Vivere Anche Se Avevo Già Letto I Grandi Filosofi E Teologi Ben Noti Come Per Esempio Martin Heidegger Oppure Edmund Pusserl Oppure Platone Aristotele I Grandi Mistici Come Meister O Come Alain De Lille E Molti Altri Che Fanno Il pensiero Cristiano Il pensiero Razionale Il pensiero Potremmo chiamarlo In qualsiasi Modo Non importa Ma Io Avevo Questa Idea Io avevo Nella mia Mente Una Panorama Razionale Ecco Non Siamo Non Sappiamo Che Cosa La Verità Come Possiamo Vivere La Verità E Se La Filosofia È Davvero L'amore Per La Saggezza Perché Perché La Filosofia È Un campo Di Lotta Tra Le Idee Tra I Pensieri E Certamente Allora Io posso Dire No Se La Filosofia È Questo E Questo Mi Piace Perché È Un Conforto Per Me Per La Mia Anima Allora Farò La Scelta Di Essere Relativo E Io Posso Abbracciare Il Relativismo Etico E Anche Il Relativismo Culturale Dicendo Allo Stesso Tempo Nulla Non Esiste Ma Tutto Esiste Allo Stesso Tempo E Per E Per E Belli Argomenti Da Da Questo Punto Di Vista Aveva Il Filosofo Italiano Gian Teresio Vatimo Che Nel 2007 In Occasione Di Un Colloquio Dedicato A Fid Di Nietzsche Lui Ha Risposto A Questa Domanda Lei Credente La Sua Risposta Fu Molto Interessante Non So Se Sono Credente Ma So Molto Bene Che Non Posso Essere Non Credente Ecco Una Radice Del Postmodernismo Cristiano E Avevo Tutti Questi Avendo Tutti Questi Pensieri Nella Mia Mente Fu Molto Colpito E Sorpreso Dalla Bellezza Della Personalità Del Padre Arsenio Bocca In Quel Momento Io Personalmente Ho Cercato Di Rispondere A Questa Domanda Per La Prima Volta Nella Mia Vita Ho A Che Fare Con Questo Sentimento Di Cercare La Verità Di Sforzarmi Di Essere Di Vivere Di Sforzarmi Di Trovare E Anche Di Vivere La Verità E In Quel Momento Ho Potuto Approfondire Molto Di Più Il Senso Perso Dell'esicasmo Il Senso Perso Dell'esicasmo La Bellezza Dell'esicasmo E Anche Il Legame Incontestabile Tra L'esicasmo E La Filosofia Perché Perché La Filosofia Prima E Questo Non Il Mio Modo Di Esprimere Perché Non C'è Qualcosa Inventato Da Me C'è Una Una Cosa Molto Ben Definita Da Un Filosofo Francese Pierre Hadot Che Ha Che Ha Parlato In Un Suo Libro Molto 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 Bello Simbolo Nella Grecia Antica E Pierre Hadot Prende In Con Trazione Questo Aspetto I Primi Monaci Furono I Filosofi Perché Perché I Presocratici Sapevano Una Cosa Che Noi Non Sappiamo Più Fare Vale A Dire Loro Sapevano Fare Delle Domande E Allo Stesso Tempo Loro Sapevano Anche Ascoltare Non Tutti Loro Avevano La Pretensione Di Sapere Cosa Rispondere Perché Ai Nostri Giorni Non So Questa È La Mia Impressione Noi Volevamo Rispondere A Tutto Abbiamo Soluzioni Per Tutto Ma Perché Viviamo In Questo Contesto Della Crisi Una Crisi Morale Una Crisi Economica Una Crisi Politica E Così Via No Perché Loro Avevano La Cosiddetta Umilità E Questo L'aspetto E Questa È La Realtà Di Qui Non Abbiamo Bisogno Di Più Ecco Il Primo Grande Pensatore Del Mondo Perché Si Dice La Prima La Prima Razza Che Ha Pensato E Che Ha Insegnato A Tutti Gli Altri A Tutta L'umanità Di Leggere Studiare Anche Pensare Furono I Greci Soprattutto Socrate E Lui Era Allo Stesso Tempo Molto Umile E Io Posso Dare Un E E Fedone Fedone Che È Diventato Anche Un Dialogo È Diventato Un Personaggio No Un Carattere Principale Nel Capolavoro Di Platone Che Si Chiamava Fedone Fedone Faccia Una Domanda A Socrate Socrate Cosa Devo Fare Per Essere Intelligente E Fedone Riceva Questa Questa Risposta Molto Sorprendente Ma Allo Stesso Tempo Molto Seria E Vera Se Vuoi Essere Intelligente Allora Tu Devi Ascoltare Perché Solo Ascoltando Gli Altri Potrai Imparare Qualcosa In Riferimento A Te Stessa E Questa È Una Pratica Davvero Efficasta Perché I Primi Monaci Cristiani Avevano Seguito Senza Essere Consapevoli Di Questo I Comandamenti Filosofici I Comandamenti Filosofici Iniziali Come Furono Enunciati Nella Prima Fase Della Filosofia Perché Ci Sono Almeno Tre Fasi Principali Della Filosofia E Non Parlo Non Non Parlo Necessariamente Di Un Contesto Storico Ma Parlo Di Un Contesto Del Pensiero Abbiamo A che Fare Con La Dimensione Etica Della Filosofia Etico Etica E Centrica Anche La Dimensione Estetica E Poi La Dimensione Cosiddetta Postmoderna La Dimensione La Filosofia Che Ha Cominciato A Rifiutare I Valori Metafisici A Restingere I Valori Dell'innocenza Scegliendo Sempre Di Più I Valori Relativi E Lo Smarimento Nell'orizzonte Di Quello Che Possiamo Chiamare Neante La Teologia Del Neante Ma Come Ho Voluto Dare Questo Esempio Riguardo Il dialogo Tra Fedone E Socrates Per trovare Una prima radice Filosofica Dell'esicasmo Perché l'esicasmo Ha delle radici Nella filosofia Da un altro lato Dovremmo prendere In considerazione E penso che noi Dovremmo Sempre Riflettere Su questo Dialogo Repubblica Il dialogo Repubblica Dove Platone Spiega Perché noi Siamo persi E perché noi Viviamo Fuori Della verità E non dentro Della verità Perché Lui mette In evidenza Una scena Dove Tutti Credevano Che la luce Che si vedeva Che si vedeva Sulle mura Sulle mure Della caverna Rappresentavano La verità Ma Loro Ricevono Una risposta Molto sorprendente Questa è la vostra Illusione Perché Voi sarete Sorpresi Quando Scoprerete Che la vera verità Si trova Fuori Della caverna E non all'interno Di questa caverna Perché Perché Voi Sapete Vivere Solo Nell'ignoranza Una cosa Che si succede In genere Perché I veri Sicasti I veri Sicasti I veri Monaci Abbiano Hanno sempre Saputo Che per Raggiungere La verità Che per Vivere La verità Si deve Necessariamente Superare Quello Che si vede E Platone Ci invita Nel dialogo Repubblica A superare Quello Che si vede Per abbracciare L'invisibile Per analizzare L'invisibile E per Scoprire L'invisibile E trasformare L'invisibile Nel visibile Questo Questa sarebbe Un'altra radice Della Un'altra radice Filosofica Dell'esicasmo E certamente Esilupperò Tutto Durante Durante Nei nostri corsi Perché ci sono Tantissime cose Da dire Ed ma Io Aggiungerei Anche Gli approcci Di Aristotele Nella metafisica Lui Ha un enuncio In greco Un enuncio Che è rimasto È rimasto Nel centro Del pensiero Anche Ai giorni Nostri Eudaimonia Teoria Esti Per rispettare L'etimologia Greca Come si tradurrebbe Questa Questa Piccola frase In italiano La contemplazione E la felicità Ecco Lui ci propone Lui ci fa Questa proposta Di meditare Ma cosa significa Meditare Perché Tutti Tutti noi Possiamo fare questo Non credo Che ci sia Qualcuno Che non è in grado Di meditare Di Di fare Delle domande Nella sua mente Di comunicare Di quando in quando Con lui stesso O con lei stessa Penso che Tutti Tutti facciamo questo Almeno di quando in quando Ma lui dice No Quando lui parla Della contemplazione Sì Scusami Abbiamo altri due minuti E Dopodiché Dovremmo Iniziare Un altro Diciamo Collegamento Io penso che Se tu riesci A stringere Diciamo Alle conclusioni Noi dopo Le svilupperemo Nel prossimo incontro Sì Certo Perché Quindi questo ti volevo dire Sono un minuto e quaranta Così riusciamo poi A A Chiudere Vai Sì Certo Certo Queste sono le ultime parole Che voglio dire Aristotele dice così La contemplazione Significa Conoscere la felicità Raggiungere la felicità Per diventare Consapevole Del regalo Della vita Che Che i dei Ci hanno Che i dei Ci hanno dato E ecco come abbiamo A che fare con un'altra Radice filosofica E ci saranno molte altre cose Che Nel frattempo Spiegherò Grazie mille Per la vostra attenzione E grazie ancora Caro Luca Per questa bellissima collaborazione Che avremo d'ora in poi Io sono convinto Che sarà un percorso bellissimo Gli accenni che hai fatto Sono stupendi Cioè Penso che anche soltanto Dedicando ad ognuno di questi Una Una sessione di studio Sarà bellissimo Abbiamo meno di un minuto Io Diciamo Questo primo incontro Lo possiamo concludere Poi lo pubblicheremo Perché si è registrato Dalla volta prossima Saremo anche Tecnicamente più organizzati E svilupperemo Quello che ci siamo andati a dire Poi invitando Le persone che hai citato Invita Cioè Io farò lo stesso Perché saranno Ben gradite E noi creeremo Anche la cornice Perché Chi ci segue Possa Possa comprendere Perché ovviamente Stiamo parlando di un mondo Quello dell'esigasmo Che è Immenso e profondissimo Tutor Sono io A ringraziare te E Iniziamo questo percorso Con i migliori auspici E E Grazie a tutti.